Esami, controlli e visite specialistiche di nuovo eseguibili nelle strutture sanitarie locali, seppur con le dovute attenzioni pettate dai protocolli anticontagio. La macchina sanitaria si prepara infatti a ripartire a pieno regime, riprendendo l'attività di programmazione ed esecuzione delle prestazioni mediche sospese con l'avvio dell'emergenza Covid-19. Al nastro di ripartenza dunque le prestazioni sospese per quelle già programmate, infatti l'ASL ricorda che i cittadini non dovranno né telefonare né fare altro, verranno richiamati telefonicamente dagli operatori dell'azienda e la prestazione verrà di nuovo messa in calendario. Quelle da programmare invece avranno dei tempi più lunghi a causa del distanziamento sociale e della sanificazione dei locali che non renderanno possibili i ritmi pre-Covid. Le sale d'attesa ad esempio sono state pensate per ospitare i pazienti di più ambulatori, oggi la presenza contemporanea di più persone non sarà più possibile, quindi tempi più lunghi per evitare code e consentire ai pazienti di entrare senza contatti tra di loro. Per eseguire le prenotazioni a breve i cittadini potranno rivolgersi anche alle farmacie, quelle telefoniche saranno possibili come avvenuto sino ad oggi ma avranno degli orari diversi. I centralini di risposta, sottolineano dall'ASL, devono rispettare il distanziamento e quindi oggi non è possibile la compresenza nello stesso numero di operatori del periodo pre-Covid. L'azienda sanitaria si sta quindi organizzando per allungare gli orari di risposta che fino ad ora erano stati dalle 8 alle 16. Arezzo ha già steso infatti dalle 7.45 alle 17.30.